I have a memory I'd like to talk about. Memory, in questo caso inteso come ricordo, a memory, o un ricordo, I have a memory. Io e mio fratello, da bambini, da ragazzini, a volte facevamo arrabbiare la nostra mamma e magari combinavamo qualcosa, oh, come tutti, e nostra mamma spesso ci inseguiva, arrabbiata ci inseguiva, e noi we're running away. Spesso con noi c'era anche la nostra nonna, quindi la mamma di nostra mamma, che assistendo alla scena da nonna diceva a sua figlia, quindi a nostra mamma, oh no, leave him alone, oh come on, leave him alone, no, no, leave him alone. Sai che cosa intendeva con live him alone, live him alone? Intendeva leave them alone, lasciali stare, lasciali in pace, leave him alone. Perché se io dicessi a qualcuno, no, leave me alone, leave me alone, è vero, intendo lasciami solo, ma posso intendere anche lasciami in pace, lasciami stare, leave me alone.